buongiorno sono la cuoca antonella dell'asilo nido piccoli passi di morigone allora oggi facciamo una frittatina con le pietoline allora una volta restate le pietoline bisogna scolarle e poi nel frattempo prendiamo tre uova cioè l'uovo andrebbe uno a bambino facciamo bene le uova ci mettiamo poco poco sale adesso possiamo aggiungere le pietoline lessate una volta messe le pietoline amalgamiamo tutto e la frittatina è pronta da infornare ecco qui la frittata per i bimbi che è un pasto che ai bimbi gli piace molto la frittatina ecco qui è pronta da infornare il tempo ci vuole circa 20 minuti forno statico a 180 gradi per 20 minuti ci vediamo arrivederci arrivederci